Il progetto Fenix si inserisce in un progetto più ampio della nostra compagnia di migliazione del termine dell'attività di logistica terrestre volta alla digitalizzazione e all'interoperabilità delle vari segmenti della fase di trasporto. In particolare il progetto Fenix riguarda la digitalizzazione, l'interoperabilità e l'utilizzo di smart device nei collegamenti tra l'Italia, in particolare Genova in questo momento, e l'Egitto. Una relazione da noi molto seguita sin dagli inizi del secolo scorso e quindi per noi molto importante. Il progetto consiste nell'utilizzare la tecnologia IoT perché al contenitore viene aggiunto un e-sales che permette la digitalizzazione di tutte le informazioni del contenitore, quindi la polizza di carico, i documenti allegati al contenitore e anche i controlli sanitari e fitosanitari. L'e-sales viene inserito tramite un'app su una piattaforma digitale con tutte quindi le informazioni. La digitalizzazione delle informazioni permette la sicurezza e il minor grado di errore nella trasmissione dei dati, ma soprattutto la sicurezza che una volta messo il sigillo da parte del caricatore, si può allo sbarco controllare che il contenitore non sia stato aperto e quindi che non ci siano mancanze del carico e lo si possa monitorare durante tutta la spedizione. Tramite una piattaforma messa appunto da questo progetto, poi c'è la possibilità di seguire il contenitore, di seguire tutte le fasi anche delle informazioni e della digitalizzazione delle stesse. Lo scopo del progetto è quello di rendere più sicura il trasferimento e lo scambio fra tutti gli attori coinvolti delle informazioni. Due, quello di velocizzare le operazioni, soprattutto di imbarco e sbarco, ma soprattutto di consegna a destino della merce, che sia l'Italia o che sia l'Egitto in questo caso. La possibilità di anticipare tutta la documentazione alla dogana in maniera tale da poter esperire in maniera sicura, proprio per la presenza di questi SILS, tutte le pratiche doganali, il controllo degli esami dei fitosanitari, per farle un altro esempio delicato, e quindi di velocizzare una volta sbarcato il contenitore e quindi ripreso tramite la tecnologia IoT, la presenza del sigillo, i SILS, quello di poter velocizzare l'importazione della merce e quindi lo svoltamento del contenitore. Questo è un servizio che dovrebbe essere gradito molto ai nostri clienti, ma soprattutto anche al proprietario della merce finale, perché quei 4-5 giorni, delle volte una settimana, 10 giorni di burocrazia, a cui spesso il contenitore è soggetto per poter importarlo e portarlo a svoltamento, dovrebbero essere molto ridotti e quindi velocizzare. Dall'altra parte la compagnia rientrerebbe in un momento così come quello di oggi, molto delicato sulla disponibilità dell'equipment, in maniera più veloce del contenitore e quindi farlo rintrodurre in un ciclo, diciamo, di riempimento e quindi di utilizzo. Questo progetto si inserisce in un ampio scenario che la nostra società sta seguendo ormai da diversi anni di utilizzare tutte le tecnologie disponibili, via via disponibili, perché avevamo iniziato tanti anni fa con lo scambio di questo tipo di informazioni similari tramite le piattaforme Intra, GT Nexus, quelle che vengono utilizzate e richieste dai vari clienti. Sì, ma diciamo che altri quattro progetti sono allo studio nostro, che sono 3D Lanes, che è la più grande piattaforma di blockchain, quella sviluppata da MESC e da IBM, a cui abbiamo aderito come compagnia, anche se non siamo un global, sia come compagnia di migliazione che come terminal operator a Genova. E quindi tutto quello che riguarda lo scambio di informazioni, noi speriamo soprattutto che si possa ottenere la biloglading, diciamo la polizia di carico trasferita tramite la blockchain, però lì vanno coinvolte anche tutte le banche, quindi il sistema bancario con le lettere di credito è una cosa abbastanza delicata, ma aiuterebbe molto diciamo a decidalizzare le informazioni, a renderle più sicure. L'altra è quella dell'utilizzo della tecnologia 5G al terminal, stiamo pensando, stiamo cercando, studiando di realizzare una bolla 5G per poter velocizzare tutto lo scambio di informazioni tra la nave e il terminal all'interno del terminal stesso. Un altro progetto sponsorizzato dall'Agenzia Spaziale Europea, dove noi siamo stakeholder, nel senso che abbiamo messo a disposizione la nostra nave per poter vedere tramite la tecnologia 5G integrata con quella satellitare, la possibilità di essere in collegamento con la nave, quindi gestire tutte le informazioni necessarie a sia posizionamento della nave, ma anche a tutte quelle che possono essere per la compagnia di navigazione, la possibilità di gestire online le informazioni, il controllo anche delle performance della nave, oltre che del carico. e poi un altro progetto che riguarda l'introduzione dell'intelligenza artificiale, anche se a noi piace più chiamarla intelligenza aumentata, perché l'intelligenza artificiale sembra che sia qualcosa sempre di molto futuristico che elimina il lavoratore, la persona, il lavoratore fisico e sostituisce con qualcos'altro. L'intelligenza aumentata è quello di poter utilizzare algoritmi, specifici algoritmi e del learning machine per aiutare chi deve prendere decisioni a gestire una massa di informazioni molto più importante che appunto l'intelligenza artificiale può dare come grande contributo. Poi nel porto di Genova, infine, stiamo partecipando al progetto di Bridge, che sarebbe un cargo community system più in generale, che riguarda tutti gli attori coinvolti in un porto, che sono una miriade e speriamo anche che poi si attivi lo sportello unico doganale che da troppi anni se ne parla ma poi non è ancora realizzato e che si integrerà con il progetto di Gate Automation per cercare non tanto di ridurre il numero del personale al gate ma quello di velocizzare per poter far sostare meno sia al camionista che la merce al gate del nostro hotel. Questi sono tutti progetti che, devo dire, sono molto impegnativi per la compagnia, sono degli investimenti per ora che stiamo facendo senza averne un ritorno economico immediato, quindi è una grande scommessa che speriamo possano apprezzare i clienti e anche in parte quei fornitori che utilizziamo, tipo il caso del Gate Automation, i trasportatori, proprio per rendere più efficiente e più sicura la catena logistica e quindi poi di poter avere più merci a bordo e più clienti soddisfatti del nostro servizio. È un processo inesorabile che però per alcuni aspetti presenta ancora delle criticità perché quando poi c'è di mezzo tanta tecnologia che è bella, che aiuta, poi ci deve essere anche la rete che possa supportare questa tecnologia ma soprattutto poi non vogliamo che le persone disimparino a lavorare, quindi per noi poi la persona, la decisione finale dell'essere umano è fondamentale per gestire bene un'azienda anche dal punto di vista operativo.